20 anni di abusivismo sotto gli occhi di tutti, tanto che ormai sembra normalità. Tutti lo sanno, ma nessuno ha mai preso provvedimenti drastici. E così da 20 anni il comune di Messina non incassa un centesimo per le concessioni di suolo pubblico nella Villa Mazzini. Ad oggi ci sono 5 operatori che lavorano all'interno della Villa di Viale Boccetta, ma solo uno ha tutte le autorizzazioni in regola. Sugli altri pendono delle ordinanze di sgombero siglate dalla Polizia Municipale. Le ultime risalgono allo scorso mese di marzo, ma finora nessuno le ha rispettate e nessuno evidentemente ha vigilato affinché fossero rispettate. E così oggi a Villa Mazzini ci sono 4 attività private che operano senza autorizzazioni e senza versare soldi al comune. La questione è stata sollevata 3 anni fa dall'architetto Denaro del Dipartimento Decoro Urbano, che ha smosso le acque portando alla convocazione di una serie di tavoli tecnici che hanno coinvolto diversi assessorati. Alla fine venne fuori una delibera di giunta che contiene un progetto di rimodulazione degli spazi di Villa Mazzini, anche per restituire ordine e decoro, in un'area in cui da troppo tempo si opera in barba alle regole, arrivando a montare banconi e strutture sulle aguiole e ovunque ci sia uno spazio libero. La priorità dovrebbe essere quella di fermare le troppe irregolarità che si commettono a Villa Mazzini. Oltre alle mancate concessioni ci sono per esempio mezzi autorizzati che entrano ed escono a proprio piacimento, fontanella dell'acqua che viene chiusa da chi evidentemente ha interessi specifici. Mesi fa la giunta a Corinti approvò la delibera per sistemare la villa. La polizia municipale siglò le ordinanze di sgombero. Poi doveva essere prodotto anche un ulteriore provvedimento per regolamentare la posizione degli operatori che attualmente lavorano all'interno e concedere loro una sorta di diritto di prelazione se si fossero messi in regola. Il Dipartimento Patrimonio ha quantificato che dovrebbero pagare un pregresso di circa 60.000 euro ciascuno. Si potrà valutare di programmare un piano di rientro e così tornare nel rispetto delle regole, ma i condizionali a quanto pare sono ancora troppi e intanto la Villa Mazzini è così da decenni.